Buonasera a tutti amici di Mr. Blogger Badriani, siamo ancora distrutti, scioccati dalla notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona e voglio fare, non dico i complimenti, ma apprezzare Napoli che è scesa in strada a salutare il suo Dio, Dio del calcio naturalmente, non vi azzardate a fare le multe per Covid, perché la città di Napoli deve piangere il suo re, quindi questa è una piccola chiosa perché siamo ancora distrutti da questa notizia, ma voglio fare questo video per commentare la meravigliosa partita dell'Inter di Conte, della meravigliosa Champions League che sta facendo Mr. 12 milioni, ma oltre a prenderlo per culo in questo caso, facciamo un discorso più serio, perché qualunque persona con un briciolo o un briciolo di sale in zucca capirebbe che questo modulo, il 3-5-2, per questa squadra non funziona, io stanno urlando tutti, tutti gli youtuber nerazzurri, tutti, e io li sto vedendo, Prince sta vomitando schifo in live, Nesky non ne parliamo, Mario Inter idem, tutti stanno vomitando schifo, perché qualunque persona con un briciolo di cervello sa, capirebbe che la difesa a 3 in quel modo, oppure il 3-5-2, non va, perché c'hai dei giocatori che se metti un 4-4-2 o un 4-2-3-1, l'Inter vince tutto, lo dico la milanista, cioè se l'Inter ci fosse in panchina qualunque allenatore su questa faccia della terra che gioca con la difesa a 4, col 4-2-3-1, l'Inter vince facile, ma proprio perché la squadra è forte, è messa alla cazzo di cane, poi mi sorprendo, mi stupisco che finalmente la piazza nerazzurra si sia accorta che la sua squadra non ha un gioco, noi altri sono due anni, sono dalla prima partita che gli diciamo che l'Inter non ha un gioco, che giocava solo palla lunga Lukaku e Dio vede e provvede, cioè sono anni che glielo diciamo, ma erano talmente tarati dai risultati, erano talmente con gli occhi bendati che non se ne accorgono, non se ne erano accorti, ora che i risultati non arrivano, ecco con 12 milioni c'è il Milan in testa al campionato che costa un decimo, l'allenatore del Milan e gioca meglio, e con 12 milioni in Champions stanno facendo schifo, si sono accorti che la squadra non va, finalmente ve ne siete accorti, ma non ve ne eravate accorti come se ne eravamo accorti noi, chi c'ha un briciolo di nagume tattico si era accorto che questa squadra va di umoralità, va di reazioni nervose, ma di gioco si vede a tratti, si vede quanto lo vogliono fare, cioè lo fanno in autogestione, cioè all'improvviso come col Torino hanno un episodio, hanno una reazione come il derby di febbraio, una reazione di nervosismo e rimontano le partite, ma un'idea di gioco, un'idea, ogni squadra, se ci fate caso, ha un'idea, tu la riconosci, c'è il Tiki Taka del Barcellona, c'è il 4-2-3-1 del Milan, c'è il 4-3-3 di Fonseca, Pirlo che sta facendo un gioco che ancora si capisce, ma forse un minimo ci sta, perché qualche cosa comunque si vede nella Juve, anche se la Juve di Sarri aveva un gioco, anche se poi è stato esonerato lo stesso, ma comunque un'idea, tu lo vedevi un marchio, un qualcosa che ti riconosceva la squadra, Manchester City, Liverpool, l'Atalanta, insomma qualunque squadra, anche il Real Madrid che guarda caso avete definito voi, il Real Madrid più scarso di sempre, oggi vi ha palleggiato in destra, perché comunque il Real un'idea ce l'ha, anche se in emergenza, anche se fusticato dalle assenze, dal Covid, da tutto quello che vi pare, il Real c'ha un gioco e gioca a pallone, la vostra squadra fa schifo, non ha un'idea, non ha un'idea di gioco, cioè poi, quelli che avrebbero dovuto dare esperienza, non fare cazzate, tipo Vidal, eh, dite all'amichetto Vidal, eh, glielo diciamo noi, che qua, in Europa, petto a petto come faceva stile Juventus, caro Arturo, e non si fa, e non si fa caro Arturo, non si fa, ti mandano a fare la doccia, non siamo in Italia, caro Arturo, eh, non siamo con Valeri, quell'altro indegno di Giacomelli, l'altro schifo, l'altro, l'aglia tutta, no, no, caro Arturo, no, non funziona così, l'albitro, dal regolamento, non si può neanche sfiorare, nemmeno sfiorare, Bonucci gli è andato a testa a testa un paio d'anni fa, ma in Italia la Juve può fare quello che cazzo vuole in Italia, ma sei andato all'Inter e pensavi che lo stile Juve potevi portarlo anche all'Inter, come Marotta, come Conte, perché avete protestato su falli assurdi, avete fatto accerchiamento all'albitro, come fa la Juve in Serie A, eh, se agli interisti piace essere la Juve 2, beh, allora contenti voi, io sono milanista, non mi interessa, ma ribadisco il concetto, qualunque allenatore mettete adesso all'Inter, se mettete Massimiliano Allegri, faccio un esempio, quello gioca 4-2-3-1, 4-4-2, vincete lo scudetto facile, anche a mie spese, cioè ce la dobbiamo lottare punto a punto, cioè cominciate a fare un filotto di vittoria e non vi fermate più, perché se tu giochi 4-2-3-1, che ha la difesa dell'Inter con Skriniar e De Vrij, Hakimi e quell'altro sulla sinistra, eh, li metti Hakimi sulla sinistra, Dalmian sulla destra, giochi un centrocampo poi a due con Vidal e Vrosovic, 3-3 quartisti, Lautaro, Eriksen e Barella e Lukaku davanti, spanico. Vuoi giocare 4-4-2 con Lautaro e Martínez davanti, un centrocampo a quattro con Vidal, Nengolan, Brozovic e Gagliardini a quattro, a difesa sembra a quattro, fai 4-3-3, l'importante è che non giochi più col 3-5-2, perché se forse non si è ancora capito, questa squadra, il 3-5-2, non lo ha assimilato, non lo ha assimilato, perché la difesa prende acqua da tutte le parti, prende tiri, occasioni, il centrocampo non filtra, cioè, l'attacco è lasciato solo a se stesso, questi sono i difetti del vostro allenatore, che ha voluto l'ira di Dio sul mercato e 12 milioni e sta facendo schifo, io sono finalmente contento che ve ne siete accorti, ma ci avete messo due anni, io all'età, mo' che ve lo dicevo che l'Inter faceva schifo e avevo detto attenzione al girone, perché venite giù da me, se passo il girone, o andate fuori da tutto, anche se ancora una minima speranza ce l'avete ancora, ma io vi voglio fuori da tutto, perché così aprite gli occhi, perché voi eravate vendati dai risultati dell'anno scorso e Conte era un fenomeno, perché vi ha portato in finale di Europa League, ma il Getafe vi aveva giocato in faccia e vi siete salvati, quindi questo è il problema, questo video è una considerazione, poi parlando della partita di stasera, avete perso con il Real più un malmesso degli ultimi anni, senza Benzema, senza Sergio Ramos, con Casemiro in panchina, quelli vi hanno distrutto, se il primo tempo finiva 3-0, che hanno colpito un palo, hanno creato 10 minuti di occasione a profusione, ragazzi, era finita, vi riempivano di golle, e attenzione che se fanno qualcosina l'ultima giornata, per voi è finita, è finita, se vincono la prossima e poi si aggiustano il pareggio all'ultima, siete finiti, siete finiti, quindi non è ancora finita, però siete lì per essere fuori da tutto, e se siete fuori da tutto, se forse andate fuori da tutto, è colpa di quel signore che avete pagato 12 milioni, perché quando Morata disse il gioco di conto è palla lunga e pedalare, non è che l'ha detto io, l'abbiamo detto noi youtuber, l'ha detto Alvaro Morata, che sta segnando come una mototrebbia alla Juventus, ma questo è un altro discorso, è un'altra storia, quindi questa è una disamina, è una giusta scoperta, ma noi ve l'avevamo detto, guardate il conto è gioco zero, se prendi Zenga, e Zenga viene a fare da interista del final midollo, quando Zenga vince tutto e lo fate diventare idolo indiscusso, basta che metta la squadra a quattro, a quattro dietro, o dove volete, di altri moduli con la difesa a quattro, perché se è capito, e lo dico, che questa squadra, il 3-5-2, non lo ha assimilato, non lo ha proprio capito, Ericsson, vogliamo parlare di Ericsson in chiusura di questo video, Ericsson se viene a giocare, viene a giocare da me, lo faccio giocare come terzo nei trequartisti, al posto di Castiglieco, metto Ericsson, Ciananoglu e Rebic, io ho risolto il problema sulla destra, cioè, Ericsson giocherebbe ovunque, in qualunque centrocampo, in qualunque squadra di questa serie A, trequartista ovviamente, o al massimo nei tre di centrocampo, il vostro allenatore lo ha rovinato, oltre a umiliarlo facendolo entrare all'ottantaseiesimo tutte le partite, quindi, quindi, esoneratelo se volete vincere, ve lo dico proprio, anche se a me la milanista me ne dovrebbe fregare, perché più vediamo indignità e vostre sconvitte, più sono contento, però, visto che mi state facendo tenerezza, questa è una disamina, perché finalmente ve ne siete accorti che gioco zero, gioco zero è schifo, Vario, che è quello soltanto perché gioca a palla lunga e vince i trofei, ma gioco vero, gioco proprio pallone, cioè gioco bello, Conte non l'ha mai fatto, ma mai, mai, allora Juventus ha vinto uno scudetto per lo schifo di Montari, il resto poi è storia recente, quindi, cioè indignità e altre vergogne, ma a parte poi come lui si atteggia, io qua, io là, ma io questa meraviglia di gioco non l'ho mai vista, ti ho detto, quando vi sfottevamo, diciamo, gioca meglio il Milan di Pioli, purtroppo, per voi purtroppo è la verità, il Milan gioca semplice, 4-2-3-1, 2-3 scambi e si va in porta, si fa gol, punto, punto, adesso, poi tutto può, poi il calcio da oggi a domani i giudizi cambiano, però adesso, in queste prime otto partite, a voi vi brucia assai, che giocano tutti a pallone, tranne voi, compreso il Milan che costa un decimo di quanto costa l'Inter e Pioli prende un milione e due, forse un milione e mezzo, forse, il posto prende 12 e sta una caterpa di punti dietro, cioè, il Torino, domenica scorsa, per 60 minuti, parevano oggi il Real Madrid, cioè, finalmente ve ne siete accorti, questo è un esamino, ma adesso, mi potete anche contestare, tu è facile parlare adesso, se voi andate a vedere i miei video scorsi, io ve l'ho detto subito, è dall'anno scorso che vi sto massacrando, perché non è che ci vuole la singola, quindi, adesso il girone è complicato, per usare un eufemismo, quindi, esoneratelo, se volete vincere, questo ve lo dico proprio, col cuore in mano, per il resto, parliamo dell'Atalanta, che ha fatto un'altra impresa incredibile, battendo Liverpool, campione d'Inghilterra, non per Gasperini, e lo lasciamo stare, ma un'altra pagina di storia, un'altra pagina di storia, comunque, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, e ancora, e sempre, ciao Diego, ciao Diego, ciao Diego.